Nome? Arianna. Emanuele. Anni? Diciotto. Diciotto. Provenienza? Nosellari. Gardalo. Perché hai scelto Buonarrotti? Perché è la miglior scuola che dà più sbocchi sul lavoro. È l'istituto tecnico migliore della zona. Perché l'Eletrotecnica? È l'indirizzo che mi ispirava di più al momento. Mi sono sempre interessate le materie riguardo l'elettronica e l'elettrotecnica. In questa scuola hai trovato? Buoni amici e laboratori molto attrezzati. Buoni professori, molto preparati e anche buone persone. Quale professione ti piacerebbe intraprendere? Disegnatrice di fumetti. Tecnico elettronico. A chi deve scegliere la scuola superiore? Venite alle IT. Scegliete con pazienza e con cura. Saluto. Vi aspetto. Vi aspettiamo.